è clamoroso ragazzi è clamoroso quello che ho visto stasera a parte il fatto che quante probabilità c'erano tra ieri e oggi di vedere qualcosa di clamoroso così veramente io non avrei mai pensato che Napoli e Inter non sarebbero riuscite a qualificarsi per i quarti tutte e due nello stesso turno agli ottavi giocando in casa veramente già quello è un qualcosa di clamoroso ma quello che ho visto stasera è stato pazzesco perché è vero la difficoltà del Bologna però ribaltare l'Inter nei tempi di nei tempi supplementari nel secondo tempo supplementare cioè il Bologna non conosce limite oramai è talmente spensiero al di là del fatto che gioca veramente un gran calcio è sciapoissimo al Bologna però ragazzi non conosce limite adesso gioca con una tranquillità e una spensieratezza e una leggerezza che veramente si può permettere il lusso di fare qualsiasi cosa poi racconteremo la partita perché comunque ci sono stati episodi l'Inter ha dominato e ha fatto la partita e sbagliando anche un rigore insomma se l'è portata un po' in casa la sconfitta nel senso che se l'è un po' cercata negli episodi però ragazzi non si può non dare merito a questo Bologna perché il Bologna che viene a San Siro è in una partita difficile dove ha fatto comunque una sorta di turnove e dove a un certo punto ha fatto entrare i titolari ma come anche ha fatto l'Inter al momento giusto per ribaltarla ragazzi sciapo ma questo allenatore qua c'ha la testa ragazzi Tiago Motta è un signor allenatore non solo perché fa giocare bene le squadre ma anche i cambi li fa sempre al momento giusto insomma è vero che poi a cose fatte è sempre facile parlare però ragazzi bisogna essere onesti una partita del genere a San Siro non è da tutti farla cioè non è da tutti ribaltare uno squadrone come l'Inter non c'erano neanche qualche ravvisaglia cioè vedi l'Inter andava sta andando benissimo è in forma non è semplice perciò sciapo perché il Bologna ha fatto una grande prestazione si è conquistato alla fine ragazzi bisogna dirlo meritatamente la sua qualificazione ai quarti perché insomma non ha rubato nulla non ha rubato assolutissimamente nulla ha subito e beh e te credo a San Siro con l'Inter si può anche subire anzi non so chi non lo fa ragazzi veramente tanta roba belli siete buonasera 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 tutti ben ritrovati qua sul canale dal vostro amico Nec nella car nella car sono in auto sono appena tornato ho visto la partita poi era a casa di amici non volevo fare il video lì ho detto poi lo faccio lo sto facendo qua chiuso nel box dentro la mia macchina perché voglio appunto parlare insieme a voi di questa partita che è stato un qualcosa di clamoroso veramente perciò ai quarti di finale passano Bologna contro l'Inter e Frosinoni contro il Napoli sarà una Coppa Italia veramente incredibile dai ragazzi diciamo facciamoci due chiacchiere su questa partita analizziamola perché comunque insomma c'è 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 di materiale di cui parlare perciò prima di cominciare vi invito ad iscrivervi al canale se vi va ragazzi iscrivetevi attivate la campanella per non perdervi mai nessun mio contenuto mettete un bel like al video per aiutare a crescere questo canale per sostenerlo e soprattutto ditemi la vostra nei commenti fatemi sapere se anche voi siete un po' sorpresi da queste due eliminazioni tra ieri e oggi tra Napoli e Inter perciò fatemi sapere la vostra seguitemi su Instagram come dico sempre un gruppo Telegram mi raccomando nella descrizione di questo video ci sono tutti i vari link e se vi va ragazzi venitemi a seguire anche sul canale dei Giargia mi raccomando vi aspetto anche di là mi raccomando partiamo ragazzi allora tanto turnover per ambo le squadre sia per il Borogna che per l'Inter ci sta partita infrasettimanale di Coppa Italia gioca comunque chi ha giocato meno insomma l'Inter ha fatto girare anche il portiere ci sta ci sta a parte qualcuno in difesa che comunque oggi c'era il ritorno di Pavard però insomma qualcuno ha giocato lo stesso ha fatto molto turnover però sostanzialmente il pallino della partita l'ha sempre quasi avuto l'Inter io non ho visto il solito Bologna anche il Bologna ha fatto turnover non ho visto il solito Bologna poi è sempre una squadra dove tu devi stare molto attento perché comunque l'idea di gioco di Tiago Motta è nel complesso della squadra perciò non è che c'è il fuoriclasse sì poi il fuoriclasse magari ti può fare la differenza e poi ne parleremo perché ce n'è uno che fa paura però non è che è nelle giocate del singolo che il Bologna arriva alla vittoria o a fare quello che sta facendo in campionato e oggi in Coppa Italia ma perché è un gioco corale della squadra perciò anche le riserve hanno fatto il loro ovvio poi sicuramente il valore in campo era differente e non è semplice poter dare lo stesso però insomma l'idea di gioco c'era perciò non era semplice però l'Inter sostanzialmente ha sempre avuto il pallino in mano anche perché il turnover dell'Inter sicuramente non è quello del Bologna ma i giocatori che sono entrati dell'Inter che spesso non giocano o che non partono da titolari farebbero i titolari in tante squadre di Serie A perciò insomma è un turnover sì ma per l'Inter e per le altre tanta roba incontrare con questi educatori io parlo al posto di Di Marco Carlos Augusto insomma Aslani che comunque non è l'Aslani dell'anno scorso ha un qualcosa in più di Lautaro c'era a fianco a Lautaro c'era Rautovic perciò insomma un turnover però con un bel valore in campo l'Inter ha fatto la partita sostanzialmente l'ha fatta c'è stata una grande parata su frattesi nel primo tempo anche nel secondo tempo ha avuto in più di un'occasione poi c'è stato il rigore sbagliato da Lautaro rigore sostanzialmente netto non so neanche come non abbia fatto a vederlo l'arbitro perché insomma lì quel braccio è proprio largo largo su una palla che arriva da lontano è un rigore nettissimo dove Lautaro si è fatto ipnotizzare sappiamo che oramai il rigorista è diventato Cialanoglu ma prima di Cialanoglu era Lautaro che poi per una serie di errori è diventato Cialanoglu oggi non c'era Cialanoglu l'ha tirato Lautaro e ahimè ha sbagliato perché poi passare in vantaggio magari in quel momento era differente poi è vero che l'Inter comunque è riuscita a passare in vantaggio lo stesso però insomma un conto è farlo durante la partita con Lautaro in campo e un conto poi è farlo ai tempi supplementari dove è vero passi in vantaggio però è anche vero che poi subenta un po' di stanchezza subenta un po' tutto poi certo se la devi vincere la vinci se la perdi la perdi sostanzialmente che sia a tempi supplementari per gioco però insomma a volte fa la differenza quando passare in vantaggio insomma quel rigore è abbastanza pesante averlo sbagliato detto questo l'Inter comunque continua a fare la partita finisce 0-0 si va ai tempi supplementari ai tempi supplementari trova il gol su calcio d'angolo perciò l'Inter sappiamo quanto è forte anche a sfruttare i calci d'angolo perciò cross di Di Marco se non sbaglio cross di Di Marco e gol di Carlos Augusto di testa un bel gol perciò io sinceramente una volta che l'Inter è passato in vantaggio non pensavo nonostante il Bologna poi ha fatto i suoi cambi ha fatto entrare i titolari soprattutto uno su tutti però insomma va bene tutto ma non è semplice a San Siro col pubblico oggi c'era una bella cornice di pubblico anche oggi perciò non era semplice avere quel carattere lì per poterla pareggiare e ahimè insomma è riuscito è riuscito il Bologna ha avuto un gran cuore non è che ha fatto chissà quale cosa poi c'è da dire che dopo l'uscita di Lautaro Martinez l'Inter è un po' cambiata sembra quasi un po' scossa da quell'uscita io ho visto quando lui ha fatto quando lui non si risparmia mai Lautaro Martinez è pazzesco lì in quella palla lì sull'1-0 è in pressing però secondo me poteva evitare di fare quel movimento io l'ho visto subito quel movimento e quando l'ho fatto ho detto mamma mia è talmente in forma che è talmente in fiducia che si permette anche una cosa l'avesse fatto uno del Milan si sarebbe staccata una gamba quando ho visto fare quella cosa e infatti dopo pochi minuti ma forse non ne ha neanche passato un minuto pochi secondi è dovuto uscire che gli faceva male lì insomma quel movimento lì in quel momento della partita sarebbe stato però lui non si risparmia ragazzi è uno che ci prova sempre veramente ha un gran cuore quel ragazzo lì speriamo che non sia nulla di grave ma lo dico con tutto il cuore perché insomma il calcio è bello perché quando vedi certi giocatori è bello vederli giocare perciò spero che non sia nulla di grave e niente l'Inter è cambiata dopo l'uscita di Lautaro è cambiata poi certo c'è stato questo calcio d'angolo dove veramente Zierze fa un qualcosa di clamoroso rimette in mezzo una palla di tacco che stava uscendo poi a un certo momento pensavo fosse fuori però poi l'ha andata buona insomma e il Bologna riesce a pareggiare sul calcio d'angolo perciò due calci d'angolo uno a uno ho detto beh allora a sto punto si va ai rigori perché insomma la partita sembrava quasi stregata per l'Inter e solo un calcio piazzato un calcio d'angolo una punizione la poteva sbloccare così è stata difficilissimo per il Bologna e solo un calcio piazzato una punizione un'episone poteva dargli pareggio ho detto si va ai calci di rigore e invece ragazzi qua bisogna togliersi il cappello perché Zierze fa una giocata pazzesca a centrocampo un tunnel sul proprio giocatore palla in profondità per Ndoje Ndoje mi pare che ragazzi arriva davanti al portiere fa lo scavetto il Bologna fa un gol pazzesco fa un gol pazzesco e veramente amutolisce tutti gli spettatori di San Siro e ragazzi non è semplice giocare contro l'Inter soprattutto non è semplice giocare contro l'Inter di Nzaghi che in queste coppe insomma sa come si giocano ne ha vinte più di una ne ha vinte due con l'Inter ne ha vinte anche con la Lazio perciò questa è la sua coppa perciò eliminare agli ottavi di finale in casa dell'Inter l'Inter di Nzaghi non era affatto semplice e bisogna togliersi il capello davanti a questa a questa squadra il Bologna che sta facendo veramente grandi cose l'Inter viene eliminata poco male nel senso che insomma era un obiettivo sicuramente non 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 succede nulla ragazzi c'è i primi in campionato Champions League qualificati insomma hanno da giocarsi la Supercoppa italiana sì e poteva essere un'altra competizione però vabbè poco male poco male più che altro per gli avversari perché se avevano ancora la Coppa Italia si poteva sperare magari a qualcosina invece così quando gli altri giocheranno loro si riposeranno perciò è meglio farli stancare per poter recuperare qualcosa al di là di questo insomma ci può stare ci può stare il calcio è bello anche per questo anche perché poi vedi delle squadre come il Bologna che veramente sono tanta 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 roba dai ragazzi io vi abbraccio di cuore vi auguro una buona notte ci vediamo domani per un riepilogo di tutto di tutto quello che è successo in Coppa Italia un bel like al video e come dico sempre io belli siete grazie a tutti